Sono queste le prime parole di Ciro Borriello, il candidato sindaco sconfitto al ballottaggio da Luigi Mennella. Mi dimetterò già nelle prossime ore. C'è amarezza nelle sue parole. La vita va avanti, resto a disposizione dei consiglieri e dei cittadini e mi auguro che le cose promesse in campagna elettorale vengano realizzate e che la nuova classe politica sia capace di governare questa città. Per i consiglieri comunali che vogliono, a volte si può comunicare il governo, le cose, confrontarsi con me, rimangono sempre a disposizione. E a quel punto i cittadini rimangono a disposizione con quella che è la mia persona, diciamo, non c'è la vita continua. Io mi auguro, mi auguro di sbagliare, mi auguro che questa città per il canto diventa pulita, diventa importunata, diventa funzionale. Per il veramente piacere che come hanno promesso ci davano un ospedale finalmente a tutti i tecnici. Per il veramente piacere che come hanno promesso ci davano un ospedale. e mi piacendo perché finalmente come hanno provvisto il mare si inquinano le nostre tante neve non sono peculate. Questo è il vostro obiettivo di controllare su questo argomento di impattarsi in ogni minuto perché è quello di chi non ci siamo battuti. Io non penso che abbiamo perso perché abbiamo fatto la campagna elettorale come l'hanno fatta, i luoghi vengono aperti, quindi si capirà di che pasta sono fatta. Ma oggi non vale il criminale, abbiamo vinto, non si ricordo che perdono e speriamo, anche se ci vediamo poco, nel bene della società che siamo capaces di guardarmi. Grazie a tutti voi Gabriella. Grazie.